Nel mezzo di una puntata di Porta a Porta, come al solito, mi addormentai all'ennesima apologia da parte di Vespa verso il Cavaliere. Il grave è se un politico approfitta della sua funzione e si mette a rubare i soldi! Il mondo, come sappiamo, presto finirà. I Maya lo sapevano. La Bibbia è la fine del mondo, amici miei. Ragazzi, guardate. Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari. Non ci sono zingari. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari. Papà, cosa era quello? Non guardare indietro, ti sembro spaventato. Sì. Dove stai guardando? Il governo sta costruendo queste neri. Io considero che la flaga dei Stati Uniti è non solo una flaga di un paese, ma è un messaggio universale di libertà e di democrazia. Perché. Non guardare indietro. Vращiamo tutti i bambini. Io non guardare indietro. Io non guardare indietro. Ma è una fascina. non scappate dietro l'angolo nascondendovi che il cittadino non deve saperlo il grave è se un politico approfitta della sua funzione e si mette a rubare i soldi questo è un problema